Lo spostamento più strano del mondo. Due carri soccorso, D445, poi nel frattempo Jets, poi tre semipilote in distanze, una E656 e nel frattempo la D2Jets e non c'entra niente con lo spostamento. Ecco quindi D445, uno spostamento così non si è mai visto. Lungo e strano, è particolare. Prima pilota, nuova livrea, media distanza. Poi le altre due, in livrea, vecchia, vecchia insieme a PR. Che fortuna. Eh, purtroppo sta rallentando, però. Ecco lì il caimano. Beh, diciamo che il video al buio così non è che rende molto però. E niente, vabbè, super fortunato. Lo super spostamento della D245. Eccolo lì. Il caimano, il caimano. E se c'è un po' sei.